Innanzitutto volevo fare i complimenti a tutti voi, soprattutto alla dottoressa perché a parte la simpatia è arrivata veramente dritta a farci capire il motivo per cui noi oggi siamo qui. Quindi insomma questo stress che ci assale veramente quotidianamente, tutto dipende dall'infiammazione che ha il nostro fisico, che noi magari sottovalutiamo ma è quella, poi da lì partono tutti appunto lo stress, lo stato di malessere che abbiamo quotidianamente, magari la sonnolenza, la classica febbre. Chiaramente il sistema immunitario va a farsi benedire e quindi noi stiamo non bene. Io sono favorevole sicuramente alle medicine naturali, sono un po' contraria all'assumere troppe medicine. Io devo dire che sono cresciuta in una famiglia dove mia mamma magari faceva finta di darmi la pasticca per il mal di testa, magari era una pasticca di zucchero. Quindi curarsi sì, naturalmente, il metodo della dottoressa credo che chi lo segue alla lettera porta dei benefici assolutamente fantastici.